Giovanna la fanciulla guerriera di Louis de Vol. Questo nostro contributo, una specie di video riassunto, si pone accanto agli altri già presenti in rete su YouTube su alcuni romanzi storici di Louis de Vol, esperto del genere, quali L'albero della vita su Elena e Costantino, Attila, il gioioso mendicante su San Francesco e La liberazione del gigante su Federico II e Sant'Omaso, cioè intendo dire, ne ha fatti anche altri ovviamente, di romanzi storici. Per il momento io ho, tra virgolette, recensito, cioè introdotto ai miei alunni e a tutti quelli che hanno bisogno di uno strumento di riflessione e sintesi sui libri letti, questi libri di Louis de Vol. Quindi questo è un approfondimento di italiano, di letture, di romanzi a casa. Sono le letture domestiche che noi professori di lettere assegniamo agli studenti. Non è un approfondimento di uno storico. Chiaro però che, trattandosi di romanzi storici, c'è la possibilità di riflettere su avvenimenti ed eventi storici, anche se con questo taglio, dicevamo, tipicamente letterario. Chi è Giovanna d'Arco? È semplicemente una ragazza che lascia i suoi genitori, il padre, il contadino Jacques, e la madre Isabel, detta la Romea, perché era andata a fare un peregrinaggio a Roma, per portare avanti un compito che l'è stato indicato da alcuni santi. Questo avviene quando lei è una giovane adolescente. Così, narra appunto Louis de Vol, Giovanna d'Arco si trasferisce dallo zio Durand Laksar, perché la vita è un'avventura con un compito che possiamo realizzare solo noi e tocca solamente a noi andare fino in fondo a questo. Ripeto, abbiamo detto, è un approfondimento di letteratura questo. Questo testo è un testo letterario che, per esempio, ci spinge, ci sprona ad affrontare subito il nostro destino con coraggio, diciamo, sin da adolescenti. E questo è anche uno dei motivi per cui è interessante leggere, non solo perché ci aiuta a riflettere sulla storia, ma anche perché ci aiuta a riflettere su noi stessi. Ancora una donna protagonista nel Medioevo. L'abbiamo visto, noi che abbiamo fatto degli approfondimenti su Matilde di Canossa, su Eluisa, e ne abbiamo in programma uno su Caterina da Siena. Già nella sua famiglia si era distinta, ad esempio, più la madre, Isabella, abbiamo detto, che non il padre. Isabella, Romè, l'abbiamo già detto, per l'idea testarda è pericolosa di andare da sola in pellegrinaggio a Roma, più che il padre, che è un personaggio che risulta abbastanza incolore in questo romanzo e in generale, penso, nella biografia di Giovanna d'Arco. Sarà così anche alla fine del romanzo, senza voler anticipare ancora nulla adesso. Giovanna si inserisce nel solco delle grandi donne del Medioevo, Matilde, dicevamo, e Luisa, Caterina, che a dispetto della loro fragilità tipicamente femminile, saranno protagoniste nell'Europa medievale, più di quanto lo potessero essere le donne nella tanto decantata Atene democratica. Questa è la realtà dei fatti, cioè che le donne comunque nel Medioevo possono essere protagoniste più di quanto avvenga nell'Atene democratica. Lo sapete che la più grande donna di cui si narra nell'Atene democratica è un'etera. e a spazia, no? Le tere di Periche, giusto per dirvi, per farvi riflettere, insomma, su questo aspetto, che le donne onorate nella tere democratica restavano chiuse nel Gineceo, ad esempio. Addirittura qui c'è una fanciulla, un'adolescente, che guida un esercito. È una cosa perfino paradossale, diciamo la verità, anche incredibile per noi moderni, però è successo. Giovanna è un simbolo dell'Europa e della sua storia. Non si tratta di essere cristiani, quindi fra di voi ascoltatori, fruitori di questo video e di YouTube, sicuramente ci possono essere delle persone che credono, magari che sono anche cattoliche, e quindi pregano, possono anche pregare addirittura Giovanna d'Arco in quanto santa. Altri che assolutamente non lo sono e possono essere anche atei. Non si tratta, quindi, dicevamo, di essere cristiani o credere alle voci che sentiva Giovanna, come è simile comunque la sua storia a quella di Caterina, patrona d'Italia. Ma si tratta di riconoscere che Giovanna ha contribuito a far sì che la Francia e l'Europa siano quelle che sono oggi. Giovanna ci insegna tanti valori. Non so se sono valori un po' tradizionalisti, un po' scurantisti, ma io sono convinto che si tratti di valori importanti ancora oggi, come la patria, la bandiera, l'insegna per lei. Ecco, in questo romanzo emerge molto questo aspetto. L'insegnano è qualcosa per cui dare la vita. di fronte alla provocazione vivente che è Giovanna, gli uomini si pongono in maniera diversa, tanto che possiamo individuare tre categorie di uomini che corrispondono a tre diversi atteggiamenti. Quindi, dicevamo, una donna protagonista, protagonista della salvezza della Francia, così come Maria è protagonista della salvezza nella storia del Nuovo Testamento, e di fronte a questi paradossi di cui sono protagoniste queste donne, gli uomini spesso sono scettici. E comunque ce ne sono, dicevamo, di tre categorie, non solo scettici. Infatti, ci sono, ad esempio, gli scettici pentiti. Fin da subito, di fronte al compito che Giovanna propone candidamente, si formano come tre schieramenti. Il primo è di quelli che sul principio mostrano diffidenza, di fronte alla piccola contadina di un villaggio sperduto, un certo Dom Rémy, comunque un nome che sembra essere quasi un presagio, perché Dom Rémy etimologicamente significa casa di Remigio. Remigio è il primo santo che incoronò un re francese, cioè che incoronò Clodoveo, quindi artefice della conversione addirittura del popolo francese, dei franchi, al cattolicesimo. Così come possiamo anticipare Giovanna la pulzella di Orléans sarà con lei che permetterà al re francese, al predestinato, alla corona francese, di essere effettivamente incoronato re di Francia. Questi scettici pentiti intelligentemente cambieranno idea quando vedranno di cosa è capace Giovanna e sono il capitano del forte scusate di Van Colleur, scusate il mio francese non perfetto dal momento che ho studiato inglese e non francese, è comunque il primo, come dire, ufficiale, grande ufficiale, che ha a che fare con Giovanna e che prima si mostra scettico ma poi riconosce che lei, insomma, è portatrice di qualcosa di più grande di lei, di più grande di ciò che appare. Appare una piccola ragazzina adolescente, quindi qualcosa che sembra non avere niente a che fare con la guerra, ma la realtà è un'altra. Poi ancora Robert de Baudricourt è lo stesso Delfino, quindi il principe destinato ad essere re, che poi diverrà re, anche lui all'inizio è scettico, ma poi si pente, riconosce la grandezza, l'autorevolezza di Giovanna, il difensore di Orléans, Dunois e molti altri, come vedremo nella storia e vedrete voi leggendo questo romanzo. Poi ci sono i fedeli seguaci che non sono mai scettici, subito dall'inizio capiscono il valore di Giovanna. Ad esempio Bertrand de Poulengi e Jean de Metz, che sono gli aiutanti di quel Baudricourt di cui abbiamo parlato prima, il Duca d'Alençon, il suo paggio Louis de Conte, Jean, signore Dolon, Florent Dillier, scrivano, scusate, al servizio della Corte Reale, è il violento ma fedele Lair. Ecco, Lair, un altro personaggio storico, molto particolare, molto violento, autore, quasi un killer, autore di tantissimi assassini, ma che paradossalmente diventa subito un braccio destro di Giovanna. Gli scettici inguaribili sono invece coloro che si mantengono dall'inizio fino alla fine lontani, appunto scettici, quindi non si lasciano coinvolgere dal personaggio di Giovanna, non ne capiscono le virtù. Per questo comunque andranno incontro a tremende delusioni o alla morte e sono grandi potenti come l'arcivescovo Regno di Chartres, il duca della Tremoyle e il signore de Goncourt o uomini più umili come il portastendardo di Orléans, Jean de Gamache o una povera guardia del castello di Chignon dove Giovanna va a incontrare il delfino che l'aveva ingiuriata e poi quello stesso giorno era negato nel fossato come lei gli predice. Qui adesso mi stai offendendo, dice Giovanna a questa povera guardia del castello, ma sappi che praticamente prima che finisca questa giornata tu morirai e così avviene. Questa è un'altra cosa che segna un po' la vita di Giovanna. Ha delle virtù profetiche, è in grado quindi di sapere quello che avviene a centinaia di miglia di distanza che il re francese sta perdendo una battaglia ad esempio oppure di predire che un uomo morirà in quello stesso giorno. Lo stendardo o la spada? Ecco, abbiamo già sottolineato, abbiamo già fatto capire che lo stendardo per lei era importantissimo, più importante anche della spada e con quello che ha trascinato il suo popolo e vinto le sue battaglie. Per lei l'insegna è più importante di qualsiasi arma. Te ne ricorderai Europa in questi nostri tempi così violenti e barbari in cui sembra proprio che sia necessario usare il pugno forte e quindi le armi, ma certe volte sarebbe sufficiente recuperare i valori e gli ideali che hanno reso grande appunto il nostro continente. Lo stendardo dice lei scusate dice il nostro narratore terza persona ovviamente riferendosi a lei lo stendardo l'avrebbe portato lei stessa. Pagine 78-79 del insomma di questa edizione della Burrizzoli. come è possibile le fu chiesto ti serviranno le mani libere in battaglia se vuoi combattere invece di portare lo stendardo ti conviene portare le armi. Lei rispose che le era stato ordinato di non uccidere nessuno con le sue mani ma ti abbiamo consegnato la spada dalla chiesa di Fierbois le dicono e Giovanna risponde le voci mi hanno ordinato di brandirla non di usarla per uccidere e preferirei scendere in battaglia senza spada che senza stendardo ecco a un certo punto quando dopo tutta una serie di verifiche Giovanna viene accolta dal re dai suoi dignitari di corte il re francese quel delfino che diventerà re dicevamo come appunto venuta da Dio quindi come condottiera le verrà data un'armatura un'armatura imponente pesante anche se vogliamo come erano le armature dell'epoca splendente con una spada bellissima dice siamo andati a prendere questa spada e tu adesso dici che non la vuoi brandire dice ecco brandire la brandirò anche ma non ucciderò nessuno ed effettivamente lei trascinerà i suoi soldati più con la sua presenza e l'insegna che porterà ben alta che non con la spada era così sicura di ciò che doveva fare e aveva una risposta così chiara e semplice per ogni domanda da non lasciare margine di dubbio ci piacciono queste donne che sono decise anche oggi potremmo chiederci vince la sensibilità femminile come quella dimostrata da Giovanna d'Arco l'intuizione o l'arroganza maschile Giovanna è una donna seria con se stessa e con gli altri decisa determinata e forte interiormente anche se è solo una fragile diciassettenne apparentemente al contrario gli uomini sembrano grossi apparentemente forti ma in realtà sono deboli e poco seri con la vita come Don Rodrigo sembra così forte imponente ma poi scopri che di una debolezza interiore incredibile scherzano imprecano ingiuriano bestemmiano insultano e le loro sconfitte sono la diretta conseguenza della loro sciatteria come capiamo leggendo questo romanzo ad esempio alla pagina 83 la Ir ecco che questo come potremmo dire questo guerriero così violento che però viene ammansito come la bestia ammansita da Giovanna che lo utilizzerà insomma come mezzo strumento per portare avanti i suoi progetti militari agitò in aria il bastone per il mio bastone tu o no se becco chiunque a imprecare a usare parole volgari o simili gli sfondo la stramale cioè gli sfondo la testa di legno è un ordine badate bene razza di insomma ecco volente o nolente questo tale la Ir non riesce a nascondere la sua natura impetuosa e come dire piuttosto spiccia insomma nel nome di Dio se dicessi cosa siete disobbedirei il mio stesso comando ma voi sapete cosa intendo ecco la Ir abbiamo detto diventa il braccio destro di Giovanna e quindi impone quello che lei ha ordinato di fare di non bestemmiare usare parole volgari e lui stesso però come dire paradossalmente sta quasi per imporre questo insultando ingiuriando quelli che sono i soldati a cui si riferisce il rispetto per i nemici Giovanna poi come vedremo arriva a Orlean dove compie azioni militari davvero straordinarie capovolgendo le sorti della battaglia c'era l'assedio della città di Orlean le truppe degli inglesi sembravano ormai sul punto di far capitolare la città arriva Giovanna d'Arco con i rinforzi e giorno dopo giorno porta le truppe francesi alla vittoria e costringe gli inglesi ad abbandonare l'assedio della città Giovanna però dicevamo non infierisce contro il nemico l'invita tre volte ad arrendersi e lasciare l'assedio di Orlean prima di lasciare la parola alle armi e prega per la salvezza della loro anima quando muoiono sul campo a pagina 105 si descrive la strage finale insomma la battaglia decisiva quella durante la quale cade il forte cioè la fortezza insomma di assedio più minacciosa per la città di di Orlean e quindi è la battaglia evidentemente nella quale cadono più inglesi se non sbaglio è il forte della Turel andiamo comunque alla pagina 105 per leggere di questo aspetto della personalità di Giovanna abbiamo abbattuto metà della guarnigione di Saint-Loup le disse Dunois ecco quindi qua siamo a Saint-Loup e quindi siamo anche in una fase successiva forte di Saint-Loup praticamente una volta vinta la battaglia nei pressi di Orlean Giovanna si dirige anche verso altre fortificazioni inglesi abbiamo abbattuto metà della guarnigione di Saint-Loup le disse Dunois con sua sorpresa l'espressione di Giovanna diventò angosciata è una notizia orribile tanti morti senza confessare scusate senza confessarsi troppi e alla vigilia del giorno dell'ascensione per giunta le lacrime le bagnavano le guance lei le asciugò con il guanto ferrato i prigionieri vanno trattati con ogni riguardo ecco quindi un esempio della sensibilità particolare di Giovanna d'Arco che poi come abbiamo spiegato all'inizio del novecento è diventata santa per la chiesa per la chiesa cattolica intanto volevo dirvi che il forte di Saint-Loup è l'unico che si trova è l'unico in mano agli inglesi che si trova ad est di Orléans in realtà è comunque uno degli ultimi che cade sotto le armi dei francesi comunque stavamo dicendo quando cade questo forte questo ennesimo forte degli inglesi nei pressi di Orléans lei dimostra pietà nei confronti dei nemici pietà cristiana parliamo adesso dell'abilità strategica di Giovanna Giovanna è leale dice in faccia quello che pensa è decisa senza tentennamenti coraggiosa capisce che occorre attaccare nell'istante in cui i nemici sembrano vincere e proprio per questo ovviamente i nemici allentano i ranghi e lasciano spazio all'imprevista reazione dei francesi grazie a questa tattica Giovanna conquista uno dopo l'altro le fortificazioni degli inglesi attorno ad Orléans dicevamo l'intuizione femminile è proprio consiste in questo nel capire quando attaccare quando i nemici meno se l'aspettano questa è la cartina di Orléans ecco vedete il forte di Saint-Loup ad est qui abbiamo fatto riferimento ho letto quel brano pagina 105 mentre quello di Tourelle ad ovest che è uno di quelli più importanti anche perché come vedete si trova su una specie di isola all'interno del fiume della Loira perché la città di Orléans come vedete è bagnata appunto dalla Loira notate ecco la riva destra la riva sinistra perché anche qui c'è un aspetto importante no? cioè lei ha sempre delle intuizioni importanti e non segue quelle che sono le consuetudini degli uomini che fino ad allora hanno fatto davvero brutta figura insomma in questa guerra dei cent'anni e questo anche relativamente a da quale parte raggiungere Orléans se la riva sinistra o la riva destra allora al contrario di Giovanna che è molto leale anche con i nemici gli uomini cioè i comandanti delle guarnigioni di stanza d'Orléans malgrado il delfino di Francia le abbia affidato il comando non accettano che una giovane adolescente sia superiore a loro vogliono prendere loro le redini del combattimento come hanno fatto in modo fallimentare fino all'arrivo di Giovanna nascondono le loro mosse a lei ma sono immancabilmente smentiti dai fatti e Giovanna è costretta poi a rimediare alle loro sconsideratezze ripeto sembra una storia paradossale però Giovanna non solo arriva a Chignon dove si trova la corte reale insomma dove c'è questo delfino di Francia non solo supera tutte le selezioni molto rigide e anche un esame approfondito da parte di esaminatori non solo militari ma anche teologi filosofi eccetera ma dimostra poi sul campo di battaglia ad Orlean che sa bene cosa fare e gli uomini non si fidano di lei e man mano che proseguono le operazioni militari devono invece riconoscere che lei è l'unica che riesce a risolvere i guai che sono spesso causati da loro la stupidità degli uomini anche gli inglesi sempre uomini mostrano la loro stoltezza quando appostati nella foresta di Patè pronti a cogliere i francesi di sorpresa si lasciano ingolosire dalla presenza di un cervo siccome gli inglesi amano molto le battute di caccia agli animali quando vedono un cervo si distraggono partono alla caccia di questo cervo a questo punto sono avvistati e travolti dai francesi ma Giovanna anche in questo caso si mostra rispettosa dai nemici sbaragliati in battaglia ecco qui dicevamo siamo nelle altre poche operazioni militari perché purtroppo la parabola delle vicende storiche di Giovanna d'Arco si chiude nel giro di pochissimi anni e dopo la battaglia vittoriosa di Orlean lei si dirige verso Parigi ma poi come vedremo finirà nelle mani degli inglesi piuttosto presto però intanto riesce a sconfiggere gli inglesi non solo a Orlean ma anche ad esempio presso questa foresta quando alla fine della battaglia Dunois e Lair che sono abbiamo detto due aiutanti di Giovanna d'Arco andarono a cercare la pulzella la trovarono seduta su una pietra con la testa di un soldato morente sulle ginocchia stavano per congratularsi con lei ma lei li zittì con un gesto brusco andate a chiamare un prete disse quest'uomo deve confessarsi era un soldato era un soldato inglese come è avvenuto già abbiamo visto quando aveva distrutto uno dei forti fortezze insomma degli inglesi nei pressi di Orlean anche alla fine di quest'altra battaglia lei dimostra compassione e compassione religiosa e quindi pietà per quest'uomo un nemico che deve confessarsi per non morire per morire in grazia di Dio per non morire nei peccati verso Reims a questo punto sconfitte le roccaforti inglese dopo la vittoria di Orlean si dirige abbiamo detto Giovanna verso Reims e poi Parigi sconfitte le roccaforti inglesi di Jargot Meung e Beaujancy neutralizzate o consegnatesi a Giovanna le città borgognone di Auxerre Troyes e Chalons ecco infatti c'è da dire questo che nel corso della guerra dei cent'anni praticamente a Parigi quindi nella parte diciamo settentrionale comunque della Francia c'era il re d'Inghilterra che si presentava lui come erede legittimo alla corona di Francia che era anche più potente all'epoca rispetto ai francesi e quindi molti dei francesi si allearono con gli inglesi per esempio i borgognoni i francesi della regione cosiddetta della Borgogna e quindi lei Giovanna attraversa anche questa regione dove ci sono queste città la città di Troyes ci fa venire in mente Cretien de Troyes uno dei più famosi cantori trovieri chiamiamo così insomma dell'epica medievale queste città finalmente quando passa Giovanna d'Arco con l'esercito diventano lealiste diciamo quindi professano la loro lealtà al re a questo punto Giovanna si dirige a Reims dove inutilmente Pierre Cochon vescovo di Beauvoir cerca di convincere il sindaco di serrare le porte a Giovanna quando ormai i cittadini soldati gliele avevano già aperte e allora a questo punto questo tale Pierre Cochon questo vescovo che è filo inglese insomma che è il nemico giurato di Giovanna scappa dalla città di Reims e però potrà anche consumare la sua vendetta quando giudicherà Giovanna anticipazione quindi attenzione sto per anticipare la fine del romanzo la fine della storia insomma di Giovanna quando lei sarà processata appunto da questo vescovo e questo vescovo in tutti i modi cerca di chiudere far chiudere le porte della città in modo che Giovanna non entri nella città ma ormai il popolo sapendo che lei stava per giungere già le aveva aperto le porte e anche i soldati l'incoronazione di Re Carlo VII quello che era il delfino quindi questo principe ereditario alla fine viene incoronato con l'unzione quindi di questo principe ormai divenuto Re con nome di Carlo VII si compie la duplice missione di Giovanna quindi lei aveva questa missione aveva questo compito uno di liberare Orlean dell'assedio è riuscita in questo intento e due di condurre il delfino a Reims perché sia consacrato in quella città e questo avviene e in un certo senso quindi quando si esauriscono questi due compiti quando si esaurisce la missione di Giovanna d'Arco si creano i presupposti perché lei stessa non ha più in un certo senso non ha più il favore di Dio ecco che ha voluto che portasse fino in fondo questi due grandi progetti che sembravano apparentemente irrealizzabili a questo punto Giovanna verrà catturata dagli inglesi e questa sua breve parabola giunge ad una fase discendente verso Parigi Giovanna infatti si dirige verso la capitale che è ancora in mano agli inglesi ma è privata dei suoi migliori e fidati luogotenenti ecco vi ricordate abbiamo già visto la IR e gli altri soldati che l'hanno aiutata per esempio qui alla pagina 174 del nostro libro si dice non ho sottolineato bene il brano quindi faccio un po' fatica adesso a ricordare comunque sta di fatto che il vescovo Coscion è costretto ad andare via ma anche dicevamo anche la IR eccolo qua l'aria era densa di insidie tradimenti e inganni Giovanna non sapeva più di chi fidarsi non aveva la misura esatta di quanto si fosse rafforzata a corte alla posizione dei suoi avversari ma vedeva gli effetti delle loro trame purtroppo quindi anche fra i francesi quelli apparentemente insomma lealisti ci sono molti che non vedono di buon occhio Giovanna e quindi fanno terra bruciata intorno a lei il duca di Alençon che abbiamo detto era stato uno dei fedeli seguaci di Giovanna lasciò l'esercito per tornare dalla giovane moglie Dunois era rientrato a Orléans la IR fu inviato lontano a sfogare altrove la sua sete di avventura ricordate che è piuttosto violento questo tale la IR con l'astuzia la pulsella veniva privata di tutti i suoi uno dopo l'altro così viene catturata dal duca di Luxemburg il duca di Lussemburgo appunto alleato degli inglesi e poi venduta per 6.000 franchi agli stessi inglesi comprata da questo tale duca di Lussemburgo così si arricchisce un po' anche più interessati a lei gli inglesi e disposti a pagare più l'oro dello stesso re francese che pure era divenuto tale era divenuto re grazie a Giovanna come magistralmente è rappresentato nel suo film Dreyer il film Giovanna d'Arco di Dreyer è uno dei cult movie insomma uno di quei film che hanno segnato la storia del cinema in questa slide io riporto tre fotogrammi tratti da questo film che come dire presenta come centrale comunque anche nell'immaginario collettivo è sicuramente fondamentale in tutta quanta la vita di Giovanna d'Arco l'episodio del processo mentre invece abbiamo detto che comunque in questo romanzo di Louis de Vol viene dato ampio spazio a quello che lei ha fatto prima di essere catturata e processata comunque stiamo dicendo come magistralmente ha rappresentato nel suo film Dreyer condotta a Rouen quindi siamo in Normandia è sottoposta a processo dal suo nemico acerimo Pierco Schon quel vescovo vi ricordate che era scappato da Reims nel momento in cui era entrata in città Giovanna Giovanna fu bruciata condannata a rogo come eretica malgrado molti ecclesiastici poi cacciati volessero assolverla era stato chiamato anche il grande inquisitore di Francia che però aveva detto non voglio partecipare a questo processo che era un po' una fece di processo farsa perché si sapeva già quale doveva essere la conclusione l'esito di questo processo perché insomma lei era già condannata a morte praticamente all'inizio ecco tenete presente che questo nostro contributo durerà ancora poco durerà ancora 5 o 10 minuti stavamo dicendo quindi che condannata a rogo come eretica malgrado molti ecclesiastici volessero assolverla e lei si difende si era difesa in un modo molto razionale logico eccetera però poi alla fine era in mano ai nemici perché ovviamente Ruen in Normandia abbiamo detto che era la zona di influenza degli inglesi cioè dove dominavano gli inglesi lei si dichiara martire e profetizza la sconfitta definitiva degli inglesi nella guerra dei cent'anni che sarebbe avvenuta nove anni dopo leggiamo alcuni brani tratti da questo romanzo alle pagine 191 193 e 195 pagina 191 quando hanno dato lettura della sentenza con la condanna a rogo lei ha risposto davanti a Dio il giudice supremo denuncia l'orribile ingiustizia che mi viene inflitta si è difesa comunque aspramente strenuamente e Giovanna ha cercato in tutti i modi insomma di ribattere con la logica la ragione oltre che con la fede aveva rintuzzato tutte queste accuse ma loro comunque anche con una specie di stratagemma cioè la fanno vestire da maschio cosa che allora era considerato una cosa quasi eretica anche se lei non voleva nella sua cella alla fine viene uccisa con una data morte Cosciò l'ha sentita e ha tremato quel vescovo si credeva un giudice e lei lo ha messo sul banco degli imputati e lui lo sapeva voi dite di essere miei giudici io non so se lo siete ma badate a non giudicarmi ingiustamente perché correte gravi pericoli io ve lo dico affinché qualora nostro Signore voglia castigarvi io possa dire di aver fatto tutto il mio dovere avvertendovi e poi ancora una volta che lei muore è morta col nome di Gesù sulle labbra respirò a fondo qui è Duran che sta raccontando alla famiglia a Isabel la mamma vi ricordate Isabel Rome la mamma Romea la mamma di Giovanna Duran Laksar ricordate che era lo zio da cui lei si era rifugiata insomma all'inizio della storia era andata a dimorare da lui per avere un punto di appoggio per raggiungere poi gli eserciti è morta col nome di Gesù sulle labbra respirò a fondo Duran c'era una gran marmaglia sulla piazza a urlare persino ridere di lei ma a quel punto ogni grido e risata si spense molti piangevano tutti i preti presenti erano in lacrime sembravano terrorizzati non lontano da me un lord inglese disse qualcosa a gran voce e frate l'advenu che parla la loro lingua tradusse siamo perduti abbiamo bruciato una santa immediatamente si ha la percezione che quello che è avvenuto è stata una grande ingiustizia l'inglese che aveva sgridato siamo perduti abbiamo bruciato una santa era Jean Tressard segretario personale del re d'Inghilterra non era l'unico a pensarla così un soldato inglese giurò di aver visto una colomba bianca levarsi in volo dalle fiamme la sera stessa del supplizio il boia di Rouen cioè quello che ha ucciso materialmente Giovanna si recò dai fratti domenicani tremante di terrore ho bruciato una santa Dio non mi perdonerà mai e fu soltanto l'inizio Giovanna d'Arco è la fine della guerra concludiamo questo nostro contributo e così come si conclude il romanzo con un riassunto una sintesi di quello che avvenne dopo nel 1429 no ecco qui scusate qua ci sono degli eventi che abbiamo già sintetizzato perché nel 1429 inizia l'avventura di Giovanna e nel 1431 finisce praticamente a 19 anni Giovanna viene catturata e bruciata come eretica ma poi una volta morta lei insomma qui vedete tra l'altro una cartina della Francia durante la guerra dei cent'anni intorno al 1415 una parte della Francia soprattutto settentrionale era in mano agli inglesi ma poi abbiamo detto dopo le vittorie di Giovanna d'Arco i francesi ripresero possesso anche di quei territori della Francia e alla fine nel 1453 dicevamo dopo 19 anni infatti dopo la morte di in realtà dicevamo dopo 22 anni comunque una ventina d'anni dopo la morte di Giovanna ci fu l'accordo tra il re Carlo VII e Filippo il Buono di Borgogna ci fu la guerra civile per il trono inglese la progressiva liberazione del territorio da parte dell'esercito francese e la conquista di Bordeaux e con questo quindi poi terminò anche la guerra dei cent'anni quindi ricapitolando cinque anni dopo la morte di Giovanna Parigi aprì le porte al re francese i Borgognoni si allearono con i francesi gli inglesi rimasti isolati si arresero e lasciarono il continente per opera di sua madre Isabelle Romè la bella la Romea che tornò anche a Roma un'altra volta una seconda volta dal Papa Callisto III nel 1456 Giovanna fu riabilitata una copia della sentenza fu stracciata nel meticoloso controprocesso voluto dal padre Papa terminiamo il nostro contributo leggendo proprio righe finali del romanzo Giovanna la fanciulla guerriera di Louis de Vol con queste cose importanti sulla storia che è seguita dopo di questo cioè Giovanna non fu mai dimenticata ma per molti secoli il suo ricordo restò dormiente nei cuori e nelle menti del popolo finché nel 1909 un salto sul soglio di Pietro Papa Pio X la dichiarò beata il 9 maggio del 1920 qualcuno dice esattamente dopo la fine della prima guerra mondiale in una Francia che era uno dei paesi vittoriosi della guerra mondiale della prima guerra mondiale Papa Benedetto XV la proclamò santa decine centinaia di migliaia di soldati francesi l'avevano invocato in battaglia invocata in battaglia negli anni terribili della prima guerra mondiale dal 1914 al 1918 dove come abbiamo già fatto capire l'ardore tra virgolette patriottico dei soldati francesi vide in lei un emblema un simbolo il grande comandante in capo di tutte le truppe alleate alla fine del conflitto maresciallo Foc non si stancava mai di ribadire il brillante talento tattico e strategico della pulzella gli ufficiali francesi impararono da lei a tutt'oggi nel 1931 durante le celebrazioni per il 500esimo ovviamente anniversario della sua morte quindi a 500 anni dalla sua morte nel 1931 abbiamo detto che la morte è avvenuta nel 1431 il cardinale inglese Burna arcivescovo di Westminster lodò la santa che con tanto valore aveva combattuto contro il suo paese contro l'Initerra ricordando che non aveva mai odiato i suoi nemici ma aveva sempre pregato per la loro salvezza citò le sue stesse parole agli inglesi tornate alle vostre case con la benedizione di Dio ricordate l'invito che ha fatto Giovanna alle truppe inglesi di ritornare a casa per evitare una carneficina un grande leader della seconda guerra mondiale Sir Winston Churchill le dedicò molte pagine in uno dei suoi libri nel 1956 a Rouen si celebrò il 500esimo anniversario della sua riabilitazione quindi a 500 anni dal 1456 anno del controprocesso di riabilitazione di Giovanna alla presenza del presidente francese la splendida cattedrale così duramente colpita dai bombardamenti durante la seconda guerra mondiale la cattedrale di Rouen era stata restaurata per riparare al torto inflitto alla santa nel lontano passato i cattolici inglesi donarono una vetrata speciale termina e chiude così con queste parole che ci sentiamo di condividere di sottoscrivere Louis de Vol la storia della pulzella continua a ispirarci e in primo luogo grazie alla chiesa che invoca i suoi santi ogni giorno fin tanto che esisteranno uomini e donne che amano il proprio paese abbastanza da lottare per la sua libertà resterà vivo il ricordo di Santa Giovanna d'Arco protettrice dei soldati grazie a tutti